E ciao, terzo e benvenuti in questo video, sei nel canale oggi, voglio parlarvi del pacchetto Asciste delle Ombre, questo video l'ho fatto un po' in ritardo, scusate, perché già era stato messo il 50% con sto pack, comunque, cosa molto importante, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, comunque, Asciste delle Ombre è stato per la prima volta uscito il 28 giugno 2019, cioè, stagione 9, capitolo 1, che c'è nello shop, Ora vi faccio vedere le skin, prima skin, uccello ombra, questa qua, scugli ombra, se non mi sbaglio, poi tipo le ombra, ombra oscura, non mi ricordo come si chiama, perché su qua sono lo zaino e la copertura, qua c'è un altro zaino, e basta, comunque, questa qua è il pacchetto, 50% di sconto, che adesso costa il 7,99 euro, Centesimi, 8 euro alla fine, comunque, il 50% hanno aggiunto questo pack, come edizione ombra, che adesso lo potrei vedere pure nello shop, e pure nell'epic games launcher, da comprare, comunque, questo sconto, il 50% è uscito per rapporti, il 50% il 31 marzo, fino al 14 aprile, due settimane, Tra qualche settimana, subito se ne andrà, solo per due settimane rimanerà, comunque, questo qua era il pacchetto delle ombre, era un video un po' ritardo da solito, però, io non so, se vi iscrivetevi un commento, se a voi vi piace questo starter pack, Il primo costava 15 euro, o 16 euro, non mi ricordo, il 50% l'hanno messo in 7,99 euro, uscite le ombre, vi danno tre skin, che già sono uscite nello shop, La prima è Scully, 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 della stagione 7, del primo capitolo, Uccello ombra, cioè, Falco solare, della stagione 8, insieme a Mezmer, e poi, lui ombra manda sempre nella stagione 7, A me, come pack, sì, è carino, sono carine le skin introdotte, però, non so, l'ho sempre voluto, sinceramente, l'ho sempre voluto, però, adesso, non so, se shopparlo, perché, le skin, alcune sono brutte, ombra mandato, è brutto, diciamo, è brutto, però, a me non piace, Per esempio, lo shopperi, lo shopperi, solo per la copertura, eccola qua, e poi, lo zaino, le aree, che qua non c'è, non te lo fanno vedere, comunque, Questo qua è il pack, che costa 8 euro, 7,99 euro, come già ho detto, e, questo te lo commenti, se vi piace, a me piace, però, non me lo shopperai mai, questo pack, a me piace, comunque, ci sta come pack, competizione ombra, però, non me lo shopperai, mai, Comunque, se qua erano, era il pack, la scelta delle ombre, al 50%, comunque, che costa 8 euro, come ho detto già, comunque, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!